E la cosa peggiore è che non posso fare sesso. Quanto vorrei ci fosse un modo per poterlo fare da solo. Una volta concluso mi addormenterei nel giro di quattro minuti. Ti mostro una cosa, nonno. Oh, è stato fantastico. Incredibile. E questo lo puoi fare quanto? Una volta all'anno o roba così? No, fondamentalmente lo puoi fare ogni volta che non fai qualcos'altro. Forte! La prossima volta voglio provare con la mia mano. Ho desiderato un anello di fidanzamento con diamante. Oh mio Dio! Esatto, ho comprato un cavallo. Hai comprato un cavallo? Ma come hai fatto? Non ti ho dato tutti questi soldi. È quello che ho pensato, Lois. Peter, questo cavallo ha qualcosa che non va. Tu sì che te ne intendi, Lois. Questo cavallo è cerebroleso, perciò l'ho pagato poco.